Siamo tornati all'esterno della sede del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, questo è il sagrato della Madonna della Ghiara, insieme a noi il presidente del Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale, Matteo Catellani. In questa ultima parte di Agrisette andiamo a parlare del tema della siccità. Lo scorso 9 luglio il bollettino del distretto del Po aveva dichiarato che ci sarebbe stata acqua per i prossimi 20 giorni per l'agricoltura. Può spiegarci un po' meglio questa dichiarazione? L'autorità del distretto del 9 luglio ha dichiarato che ci saranno all'incirca per 20 giorni quantità d'acqua sufficienti per l'irrigazione. È ovvio che quanto comprende l'areale servito da Po ha questo beneficio. Poi ci sono altri areali, tipo l'approvvigionamento da Secchia come da Enza, che invece questa situazione è molto più critica, perché gli affluenti purtroppo in questo periodo hanno già diminuito di molto i quantitativi d'acqua disponibili per l'irrigazione. Facendo un'analisi sui 20 giorni di acqua disponibili, è tanto o poco rispetto al periodo? Siamo ai primi di luglio, le coltivazioni in questo momento devono essere portate a maturazione, perciò se questo trend dovesse confermarsi possono portarsi a un buon punto, ma non è di certo una soluzione. Purtroppo qua c'è bisogno di infrastrutture perché i quantitativi purtroppo non sono sufficienti per poter servire tutto il fabbisogno che c'è nella nostra zona. Sul tema delle infrastrutture andremo tra poco, solo un'ultima domanda, sul tema della siccità, i temporali degli ultimi giorni hanno dato una piccola boccata d'ossigeno, si può dire questa cosa qui? Hanno certamente aiutato a portare avanti la maturazione delle colture, però di fatto non sono risolutivi, anche perché come abbiamo anticipato in inizio di trasmissione, quantitativi molto importanti in brevissimo tempo che purtroppo non rimangono sul territorio, vanno poi a defluire rapidamente. Qui serve delle infrastrutture per stoccare l'acqua e poterla utilizzare quando serve, perché altrimenti si rischia sempre di portare la palla in avanti ma non risolvere mai il problema. Facendo giusto un'analisi su quello che si stanno chiedendo i reggiani, la bonifica è pronta a soddisfare le richieste dell'agricoltura reggiana? La bonifica delle medie centrali non l'inventa l'acqua, la può solamente gestire, perciò di fatto ha a disposizione quello che è già stato un po' dichiarato dall'autorità di Bacino. Se il po' dovesse diminuire rapidamente, come purtroppo ci aspettiamo perché non ci sono in previsione delle precipitazioni importanti, come anche gli altri affluenti, la bonifica non potrà fare altro che alzare le mani e dire se non c'è l'acqua non la possiamo distribuire. Presidente, un'ultima domanda. Lei ha dichiarato più volte in questo ultimo pezzo di puntata di Agri7 la parola infrastrutture. A livello infrastrutturale cosa serve? A livello infrastrutturale, indubbiamente, oltre alla rite idraulica che deve essere modernizzata e portata a un beneficio maggiore, questo PSRN con investimento di 15 ai 20 milioni prevederà di poter risparmiare all'incirca 4 milioni di metri cubi d'acqua proprio sulla rete servita da Po. Dopodiché le altre infrastrutture servono sui nostri affluenti, tipo Lenza, come stiamo portando avanti il discorso della traversa di Cerezola per una ristrutturazione e nel frattempo anche un quantitativo d'acqua che possa dare una risposta limitata ma precoce al fabbisogno, così servirà un bacino vero e proprio che sia una riserva d'acqua da poter spalmare su tutti i mesi estivi. Da qui c'è questa esigenza di fare al più presto, possibilmente bene, uno studio approfondito dei quantitativi e mettere in atto quello che serve per poter rispondere alle esigenze. Con questo intervento ringraziamo il Presidente della Bonifica dell'Emilia Centrale, Matteo Catellani.